Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico In questa nuova veste di cazzeggio catabiotrico ci sono due nuovi ospiti, sono due ospiti immaginari, beh insomma, mica tanto immaginari Zuzel e Theia sono due alieni attualmente in sosta sulla colonia di Gonor di Marte per studiare lo sviluppo del punto protocollo sulla Terra, provengono dalla base di prossimità di Capitan B e sono molto cittoni, socievoli ed hanno deciso di partecipare a delle teleconferenze di fantascienza in podcasting giusto? Ok, e questo è solo un teaser, ciao! a 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